Ben ritrovati allo spazio delle previsioni nel tempo a cura di meteoincalabria.it. Il vortice di bassa pressione centrato sulla Corsica e la Sardegna, autore del diffuso nel tempo che sta interessando il centro-nord Italia, nelle prossime ore inizierà a traslare verso sud-est. Infatti, anche se in tono minore, la nostra regione, nella giornata di martedì, sarà interessata da una debole o tutt'al più moderata instabilità, che interesserà maggiormente i versanti tirrenici. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Oggi cieli poco nuvolosi o velati per il passaggio di nubi alte e stratificate. Dalla tarda serata, aumento della nuvolosità sul litorale tirrenico cosentino. Temperature in calo di qualche grado. Domani, cieli per lo più nuvolosi sui versanti tirrenici ed interni, con bioggi sparse che inizialmente interesseranno la Calabria settentrionale, in estensione sul resto della Calabria tirrenica. Deboli nevicate interesseranno le aree montuose, a quote superiori dei 1.400 metri. Altrove, poco o parzialmente nuvoloso, con possibili deboli piovaschi. Temperature in calo risulteranno in linea per il periodo. Ora il concetto sguardo a mari e venti. Oggi il tirreno molto mosso, l'oione molto mosso o agitato. I venti spireranno moderati dai quadranti meridionali. Domani, molto mosso o agitato il tirreno con venti che si disporranno dai quadranti occidentali. Sull'oione o molto mosso con venti di direzione meridionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook o Meteo in Calabria. Per la puntatoria è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.